Dietro fronte dei testimoni di Geova. Il coronavirus non è più la fine del mondo. Testimoni di Geova. Il coronavirus non è la fine del mondo. Soltanto alcune settimane fa, alcuni membri del corpo direttivo dei testimoni di Geova affermavano che il Covid-19 era un segno della fine del mondo. Anzi, un segno, della parte finale degli ultimi giorni. Non mi preoccupare. Abbiamo aspettato questo. Abbiamo detto che per qualche tempo, ora, si rilassero, va a diventare più pezzi. Sì, non mi preoccupare. Ricorderete che Gesù, in Luca 21, 11, predisse chiaramente che le epidemie sarebbero state parte del segno degli ultimi giorni. E in Rivelazione, capitolo 6, parlando del quarto cavaliere, si dice che avrebbe avuto l'autorità di uccidere con una piaga mortale. Quindi, quello che vediamo accadere attorno a noi rende evidente, ora più che mai, che stiamo vivendo nella parte finale degli ultimi giorni. Anzi, gli ultimi giorni della parte finale degli ultimi giorni. Siamo vicini all'ultimo giorno degli ultimi giorni. Sono passate solo alcune settimane per far cambiare questa loro idea. Sentite che cosa dicono oggi, 20 aprile 2020. I testimoni di Geova di tutto il mondo hanno reagito rapidamente per fermare la diffusione del coronavirus. Sin dalle fasi iniziali di questo, ora pandemia, sono state prese misure rigorose tra cui la sospensione di tutte le attività religiose pubbliche, comprese le grandi assemblee, non che gli incontri locali che si svolgono solitamente nelle sale del regno. A livello locale, lavorando a stretto contatto con il Comitato per le contingenze civili, abbiamo implementato tutte le misure raccomandate come quando richiesto, inclusa la sospensione della nostra attività principale di andare da una casa all'altra e la testimonianza pubblica con i nostri carrelli riconoscibili. Tuttavia, abbiamo usato altri mezzi a nostra disposizione come la videoconferenza per continuare a incontrarci, incoraggiandoci l'un l'altro e continuando, per quanto possibile, a ricevere le istruzioni spirituali e il conforto necessari. Naturalmente continuiamo nella nostra determinazione a collaborare pienamente con le autorità sanitarie, che ringraziamo per il loro prezioso lavoro, mentre affrontiamo questi tempi difficili. Si prega di notare che il nostro sito web, il lunga www.org, è aperto a tutti, dove è possibile trovare informazioni incoraggianti e utili per tutte le fasce di età, compresi film basati sulla Bibbia che sono molto pratici per i nostri giorni. Nel frattempo, i nostri membri più giovani stanno aiutando come volontari e si stanno offrendo per aiutare i loro vicini e gli anziani che vanno in supermercati, farmacie e li portano in ospedale dal medico quando hanno un appuntamento. Inoltre, prendiamo in considerazione le esigenze dei non udenti e dei non vedenti fornendo loro programmi trasmessi dalle videoconferenze alle loro case nella lingua dei segni da un team di traduttori e anche pubblicazioni braille per coloro che ne hanno bisogno. Infine, sebbene alcune persone possano dire che i testimoni di Geova affermano che il coronavirus è un segno della fine del mondo, il fatto è che non avremmo mai fatto una simile affermazione. Perché mai? Secondo la Revised Standard Version, Gesù, edizione cattolica, rispondendo a una domanda posta dai suoi discepoli curiosi, dici, quale sarà il segno della tua venuta e della fine dei tempi? Gesù rispose, e citiamo solo in parte, ci saranno grandi terremoti e in vari luoghi carestie e pestilenze, epidemie, Luca 21, 7-11. Quindi sarebbe sbagliato dire che il coronavirus è il segno della fine del mondo. La verità è che epidemie e malattie hanno afflitto e continuano a tormentare la razza umana. Come tutti sappiamo, l'umanità è stata afflitta negli ultimi tempi, come l'influenza spagnola, 1918-1919, che ha ucciso oltre 40 milioni di persone, la semplice influenza, che ogni anno provoca la morte tra 250.000 e 500.000. O l'HIV, che ha infettato più di 76 milioni di persone e causato la morte di 35 milioni, con decessi correlati a questo disturbo. Solo nel 2016 1,8 milioni sono morti a causa dell'AIDS. Pertanto, ciò che si può certamente dire è che stiamo vivendo nel tempo predetto da Gesù quando ha risposto alla domanda dei Suoi discepoli. Tuttavia, chiunque abbia lo scopo di trarre vantaggio da una situazione così tremenda come quella che stiamo vivendo oggi, così triste e tragica con le sue molte morti e instabilità economica, da spaventare o intimidire le persone che sono i nostri vicini, fa un grande disservizio al vero messaggio di speranza che la Bibbia mette in luce e Gesù ci ha insegnato a pregare, dicendo, venga il tuo regno. Quella speranza è la promessa di un mondo migliore che tutti possano aspirare a dove Dio stesso asciugherà ogni lacrima dai nostri occhi, e la morte non ci sarà più, né ci sarà più lutto né pianto né dolore, per le cose precedenti passerà. E passeranno. Il regno di Dio realizzerà questo. Matteo 6,9, Apocalisse 21,4. Ecco perché Gesù voleva che tutti lo sapessero, così disse ai Suoi discepoli che, questa buona notizia del regno sarà predicata in tutta la terra abitata per essere testimone di tutte le nazioni, e poi verrà alla fine Matteo 24, 14. Questa è la vera essenza del vero cristianesimo.